Ciao a tutti ragazzi e bentornati o eventualmente benvenuti sul mio canale. Come avrete letto dal titolo oggi parleremo di un tema purtroppo ancora molto attuale ovvero il razzismo. In realtà all'interno di Red Dead Redemption 2 Rockstar ha inserito tantissimi riferimenti a eventi e culture di quel periodo. Si pensi per esempio al diritto di voto da parte delle donne, alla schiavitù, al razzismo appunto. Se analizziamo bene il contesto storico di riferimento Rockstar ha inserito tantissimi easter eggs su questi temi collegandosi a eventi realmente accaduti o semplicemente a quelle che sono ancora oggi credenze sbagliate. Si pensi per esempio a quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo negli Stati Uniti. Sul mio canale ho già trattato alcuni di questi easter eggs parlandovi di misteri o per esempio di curiosità sulle città presenti in gioco. Tuttavia in questo video ci soffermeremo su due personaggi presenti all'interno di Red Dead 2, personaggi che rispecchiano molto i pensieri di una società contorta, sia di quell'epoca, quindi parliamo di fino a 800 e inizio a 900, che purtroppo anche della società odierna. Inoltre dopo aver analizzato questi due personaggi vi parlerò di un altro easter egg già citato nel video in cui vi ho parlato della storia e curiosità di Saint Denis, quindi non perdiamo più tempo ed iniziamo subito. Un personaggio che in molti mi avete chiesto di analizzare è John, definito anche con il nome di John Brizzolato. È un uomo di nazionalità americana che possiamo incontrare nel saloon di Valentine a partire dal capitolo 2. John è un ubriacone che racchiude in sé lo spirito selvaggio del vecchio West. Lui infatti racconta di aver cacciato e massacrato ogni indiano che ha incontrato nel suo cammino e addirittura afferma che una volta ha pure mangiato il cuore di uno di loro. Nel saloon lo incontriamo sempre ubriaco ed ogni volta possiamo ascoltare il suo disprezzo nei confronti dei nativi americani. Urla questo suo disprezzo ma nonostante ciò la gente intorno a lui lo ignora quasi completamente. Persino il barista del saloon ci raccomanda di ignorarlo. Se il giocatore lo fissa John si irrita e lo attacca dando origine ad una rissa. Tuttavia se lo fate fuori potete recuperare il suo cappello di procione che credo sia l'unica cosa figa che questo tizio ha. Come detto prima John si lamenta costantemente dell'invasione della civiltà o di vari gruppi etnici e spesso insulta scatena risse senza un reale motivo. Comunque ragazzi vi consiglio di andare da lui di non fissarlo e di ascoltare tutto ciò che dice in merito ai suoi ideali. Piccole curiosità su di lui sembra molto simile a Sasquatch Hunter del primo Red Dead Redemption tuttavia non sono la stessa persona e anche al Sasquatch Hunter di GTA 5. Questo John è molto più difficile da abbattere rispetto a tutti gli altri NPC durante una rissa. Come citato prima oltre ad odiare i nativi disprezza anche gli abitanti di Valentine e le bevande del saloon. Attaccarlo per primo attiverà un livello di ricercato anche se durante il combattimento gli uomini di legge semplicemente aspetteranno e guarderanno fino alla fine il combattimento. Infine se la lotta finisce fuori dal saloon John può uscire anche un coltello da caccia. Norris Forsyth. Possiamo incontrare questo tizio per le strade di Saint Denis intenta a distribuire opuscoli e a sostenere l'eugenetica. Si tratta di uno studio nato fino a 800 volta a perfezionare la specie umana applicando metodi di selezione usati per animali e piante. Tuttavia in questo caso si fa il riferimento all'eugenetica nazista ovvero a politiche sociali razziste attuate dalla Germania nazista e aventi come fine il miglioramento della razza mediante l'eugenetica e l'impedimento di tutte quelle vite considerate prive di valore di riprodursi e diffondersi. In particolare ebrei, zingari, malati mentali, ritardati dovevano essere semplicemente eliminati in quanto appunto prive di valore e in tal modo impedire a queste categorie di diffondersi e mescolarsi tra le popolazioni. A causa di ciò oltre 400.000 persone subirono la sterilizzazione coatta e 70.000 furono uccise. Tornando in Red Dead Redemption 2, se interagiamo con quest'uomo ci distribuirà un opuscolo all'interno del quale è possibile leggere appunto le sue ideologie molto simili a quelle citate prima. non voglio morire, signor! Ho avuto amici che sono mexicani, amici che sono indiani, che conoscono i bambini, irish, italiani, buoni e buoni, buoni e buoni e buoni. Ho avuto amici dei bambini e buoni dei bambini e buoni dei bambini. E prima di tutto, amici dei bambini. Tu, signor, sei un vero e buoni. Come puoi potremmo credere in igualità? Non ho mai parlato di una nascita in tutti i giorni di natura. Questo uomo crede che la gente sia uguale. Parla per te, signor. Parla per te. Tuttavia il giocatore spiegherà di aver conosciuto persone buone e cattive, indipendentemente dalla loro, tra virgolette, razza. L'uomo sminuirà Arthur, il quale inizierà ad irritarsi. Da qui questo tizio inizia a scappare e voi potete decidere se ucciderlo o meno. Quest'uomo reagisce con derisione e disprezzo nei confronti di chiunque la pensi diversamente, mostrandosi poi un codardo, una volta minacciato. Norris condivide somiglianze con l'eugenetista della vita reale Harry Lauglin. Lauglin ha sostenuto scientificamente la superiorità genetica della razza bianca e ha persino insistito per la sterilizzazione obbligatoria per i membri inadatti della società. I suoi insegnamenti divennero molto influenti per Adolf Hitler, infatti Norris ha somiglianze se ci fate caso anche ad Hitler. Se uccidete o attaccate Norris, gli agenti di polizia non vi faranno nulla e l'onore non sarà influenzato. Bene ragazzi, prima di concludere con il video vorrei parlarvi di quell'easter egg molto significativo in RDR2 che aiuta anche a far riflettere su come all'epoca era davvero brutto e svantaggioso essere un uomo di colore. A Saint Denis si può notare come da un punto di vista sociale ed economico ci sia una netta separazione tra diversi gruppi etnici e razziali. L'ambientazione del 1899 per il gioco significa che si svolge circa tre anni dopo la famigerata decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, Plessy Ferguson, che affermava la Corte Suprema dello Stato e confermava la costituzionalità delle leggi sulla segregazione razziale degli stati, dette anche separate ma uguali. Di cosa si trattava ragazzi? In parole semplici si trattava di isolare e dividere letteralmente i gruppi etnici in base a ideologie razziste. Per esempio vi erano segregazioni sui servizi come alloggio, cure mediche, istruzione, occupazione, trasporti. Per capire meglio ciò vi consiglio un bel film che si chiama Green Book, guardatelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti o direttamente in chat su Instagram. Insomma ragazzi, tema abbastanza importante, spero che questo video vi sia piaciuto, è davvero molto figo vedere tutti questi easter eggs in gioco e come Rockstar si sia impegnata a raccogliere tutte queste informazioni in modo tale da poter rispecchiare nel miglior modo possibile sia la storia che la cultura americana di quel tempo. Ora sono curioso di leggere i vostri commenti, seguitemi su Instagram per ulteriori novità sul mondo Rockstar, noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti! Grazie a tutti!